Il fronte di azione popolare torna a farsi sentire riguardo lo stato di degrado in cui versano le strade provinciali. Questa mattina sotto la sede della provincia a Pesaro esponenti del FAP hanno effettuato una dimostrazione di protesta per richiamare l'attenzione dell'amministrazione su questo problema. Oltre tre mesi che noi del FAP denunciamo lo stato di abbandono delle strade provinciali abbiamo continuato questa protesta perché lo stato di abbandono delle stesse è arrivato a dei livelli veramente preoccupanti e di pericolosità molto alta. Onde per cui oggi siamo voluti essere qui sotto la provincia per farci sentire ancora più forte e non appena la provincia ha saputo di questa manifestazione in alcune strade provinciali si è mossa a tappare le buche. Questo dimostra che loro sono in malafede, dimostra che i soldi per fare queste opere c'erano, ne siamo contenti ma la nostra protesta continua perché molte strade provinciali ancora versano in uno stato di completo abbandono. Quindi il fronte di azione popolare continua la battaglia a fianco dei cittadini per le varie tematiche del territorio.